Benvenuti a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio che poi è anche una guida perché si tratta di Liguria Medievale, 50 luoghi da scoprire e visitare, appena pubblicato da Edizioni del Capricorno, curato da Simone Caldano, che abbiamo il piacere di avere nostro graditissimo ospite. Sono 240 pagine per soli 14 euro, quindi un prezzo che assolutamente invita all'acquisto e soprattutto se avete intenzione di andare in Liguria non perdetevi questa guida e questo saggio per poter visitare la Liguria con occhi diversi e con informazioni veramente utili. Quindi io, come mia abitudine, non rubo altro tempo, lascio subito la parola a Simone che ci racconta di questa guida. Prego Simone, a te. Ciao Maurizio e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto ringrazio per la possibilità di presentare questo libro che, come hai detto tu, vuole un po' essere un ibrido, no? Penso che già il titolo renda chiaro il fatto che il libro non pretende di essere un trattato analitico sul Medioevo Nigure. È essenzialmente una guida per i visitatori curiosi, indipendentemente dal loro grado di esperienza. E devo dire che da un po' di tempo a questa parte noto con piacere che sta aumentando anche il numero di persone che visitano il territorio. Ovviamente questo non vale soltanto per la Liguria. Si documentano, lo fotografano. Spesso è una questione legata agli appassionati di fotografia e tante volte fanno ricognizioni più capillari di quelle degli studiosi. Tante volte se mi capita di avere bisogno di qualche fotografia è più facile che possa darmela per esempio uno di questi appassionati piuttosto che un collega che magari appunto è travolto dalla burocrazia dell'università che più passa il tempo meno lascia spazio anche solo al respiro. Però appunto se mi passi l'espressione cerco di strizzare l'occhio in qualche modo anche agli esperti. Consideriamo che la Liguria non è un territorio che tutto sommato ha attirato più di tanto l'attenzione di coloro che hanno redatto degli strumenti di carattere generale come possono essere i manuali di storia dell'arte. Io per le edizioni del Capricorno ho scritto anche Piemonte medievale che è stato pubblicato due anni fa. Il Piemonte è sicuramente un territorio del quale ho una conoscenza più approfondita perché ci vivo, perché da tanti anni dedico il mio lavoro a questo territorio e mi accorgo però che quando mi capita di portare dei colleghi rimangono stupiti perché non avrebbero immaginato che in Piemonte ci potesse essere una consistenza simile per quanto riguarda il patrimonio. Ovvio poi che non si debba parlare soltanto di quantità ma anche di qualità. Questo vale anche per la Liguria, forse a maggior ragione, tu sai bene Maurizio che un giorno sia l'altro pure, ci sentiamo dire che la Liguria è brutta, no? Osservazione che proviene da vari contesti, in varie situazioni, per vari motivi. Sia chiaro, nessuno nega e neanch'io intendo farlo che ci siano stati soprattutto negli anni del boom ed inizio degli sfregi importanti al territorio, no? Soprattutto nella periferia di Genova e nel Piemonte. Ma questi ci sono stati dappertutto, francamente, per cui faccio fatica a capire la ragione per cui in Liguria questa situazione debba andare a creare un'ipoteca sul giudizio sul territorio e addirittura non capisco perché debba finire per convincerci che sia un territorio povero in termini di patrimonio artistico. A parte il fatto che chi ha un pochettino di conoscenza della storia medievale e non solo conosce perfettamente quella che è stata la centralità di Genova, quindi partire dal presupposto che una città come Genova sia povera dal punto di vista del patrimonio artistico, non soltanto medievale, intendiamoci, è chiaramente un preconcetto, ma lo stesso vale anche per il ponente, vale per il levante e proprio per la configurazione del territorio della Liguria che è incassata tra montagna e mare, chiaro che ci troviamo molto spesso di fronte a monumenti che sono anche in posizioni naturali veramente incantevoli e c'è veramente una diffusione notevole di questo patrimonio, vale per l'architettura romanica, vale per l'architettura gotica, sono due termini che io non amo molto, soprattutto romanico, però li uso perché diversamente è molto difficile riuscire a capirci bene. Dobbiamo ad altra parte dire che sarebbe scorretto relegare la Liguria ad un fenomeno di periferia, come la sua posizione geografica potrebbe portarci a fare. Consideriamo, per esempio, è sicuramente l'esempio più macroscopico che è a Genova ed è in Liguria che si sviluppa l'attività dei magistri antelami, questi abilissimi scalpellini veramente dalla competenza elevatissima che erano originari dell'area dei laghi lombardi, antelami e intelvi è praticamente lo stesso termine, tra cui anche il famoso benedetto che rimane un po' mistero, però probabilmente si deve proprio valutare la possibilità che la sua formazione si sia svolta a Genova e loro veramente erano seduti su un piccolo impero, erano dei grandi imprenditori che potevano fare affidamento su botteghe molto articolate, abilissime, ripeto, nella realizzazione dei conci che vanno a comporre le murature, di contro la scultura, se vogliamo, era un po' meno nelle loro corde perché non veniva considerata come un qualche cosa che richiedeva una specializzazione differente rispetto a quella necessaria per l'architettura. Ecco, la Liguria è questo. Noi da Genova a Ponente a Levante troviamo larghe testimonianze dell'attività degli antelami, cosa che non succede facilmente in altre regioni d'Italia. Ovvio poi, ma anche questo vale per ogni territorio, anche per la sua posizione geografica vada a risentire magari a tratti della Lombardia, a tratti della Francia. Non c'è dubbio sul fatto che soprattutto nell'undicesimo secolo la Liguria di Ponente e il Piemonte di Meridionale costituiscano un areale molto omogeneo per quanto riguarda la cultura artistica e l'eseco architettonico, però questo non deve portarci a perdere di vista l'originalità di certe manifestazioni. Perciò, ecco, se qualcuno dei detrattori, come dire, grazie a questo libro sarà invogliato ad andare alla scoperta dei monumenti medievali della Liguria, potrò ritenermi soddisfatto. Dopodiché, ripeto, al netto del fatto che si tratta di una guida destinata a tutti, quindi in quanto tale deve essere accessibile a tutti e spero di esserci riuscito, ho cercato di mantenere anche una coerenza storica. Se i documenti non ci permettono di risalire alle circostanze della fondazione di un edificio, ce ne facciamo una ragione. Non andiamo, voglio dire, a scomodare templari, a scomodare i monaci di Bobbio necessariamente, a scomodare i Longobardi, a scomodare i templi romani di Giove, di Marte e di Venere. E attenzione, questo non vuol dire che queste presenze non ci siano state, non ci siano. Però, voglio dire, ne parlo nel momento in cui c'è una testimonianza sicura di queste presenze. Da parte mia, credo che la storia sia già abbastanza affascinante, così com'è. Per cui non è necessario andare alla ricerca di voli pindarici e di sovrastrutture che ci portano fuori strada e se a un certo punto le fonti non ci permettono di andare a fondo di qualche questione, ce ne facciamo una ragione e andiamo avanti. Il libro procede da Ponente Levante, quindi praticamente procede da Ventimiglia a Sarzana. Ventimiglia, questa città di frontiera, molto importante per il patrimonio medievale che vi si conserva e molto importante anche dal punto di vista istituzionale, vuoi perché c'era già una città romana molto importante al Ventimiglium che si sviluppava sulla costa e che poi analogamente ad altre città situate nel Piemonte meridionale e non soltanto viene progressivamente abbandonata nel corso dell'Alto Medioevo a favore dell'insediamento d'altura. La diocesi molto probabilmente si sviluppa lì già nell'Alto Medioevo. Il primo vescovo che noi conosciamo è documentato nel 680 e portava il nome di Giovanni e abbiamo delle testimonianze molto importanti. Innanzitutto la cattedrale che ha queste due fasi, una di undicesimo che coincide sostanzialmente con il corpo longitudinale, le tre navate e poi un'altra di fine dodicesimo inizio 200 che coincide con il capocroce, con il rinnovamento delle coperture delle navate. L'altra è San Michele, monastero benedettino molto importante, era la chiesa gentilizia dei conti di Ventimiglia, questo potentato che fino alla metà del 200 circa veramente spese l'ultima parola su tutto ciò che riguardava il territorio. Era una dipendenza del monastero di Leroy, Saint-Honorat, questo monastero molto importante situato su un'isola a largo di Cano. Ma c'è anche il Casteldattio, questa fortificazione costruita a partire dal 1222, oggi allo stato di Rudere, che documenta quello che è il braccio della Repubblica di Genova sul territorio della riviera che si va consolidando sempre di più fino all'annessione definitiva che si verificherà nel 1252. Chiaramente questo ha un influsso significativo anche per quanto riguarda la circolazione delle maestranze. Per esempio, se noi andiamo a prendere il caso di Sanremo, dove sbaglieremmo a pensare che ci sia solo un bel festival della canzone, tante belle ville nello stile della Belle Epoque, ma c'è anche un patrimonio monumentale, medievale e non solo, che non deve essere trascurato. Ecco, lì abbiamo notizia di questo maestro Antelamo, bianco di Molzano, blanco, che nel 1254 a Genova si presenta davanti al suo notaio, che era guido di Sant'Ambrogio, allo scopo di lasciare procura in modo che gli fosse corrisposta la somma di denaro che gli era dovuta per i lavori fatti nella chiesa di San Siro, la chiesa maggiore di Sanremo. Per fortuna quindi di tanto in tanto anche le fonti ci vengono in soccorso sull'attività di questi antelami e ci permettono qualche volta anche di conoscerne i loro nomi. Poi si sa che nella maggior parte dei casi i documenti medievali parlano di negozi di compravendita privati, magari la permuta di un terreno, di un vigneto, è chiaro che anche gli antelami avevano le loro piccole proprietà fondiarie, quindi non è scontato che i documenti che li riguardano abbiano a che vedere con la loro attività dei costruttori, però per fortuna c'è qualche piccola luce nel buio diciamo che ci permette appunto di fare chiarezza su un quadro già molto articolato, interessante alla luce dell'esame delle architetture. Procedendo verso Ponente dobbiamo parlare di Albenga chiaramente, centro molto importante, uno dei più importanti edifici paleocristiani e uno dei pochi che nell'Italia del nord si conservino in elevato è proprio il suo battistero della prima metà del quinto secolo e non è di scarso interesse il fatto che il primo vescovo di Albenga ha documentato con certezza sia a Quinzio che nel 451 partecipò al secondo concilio di Milano ed è altrettanto significativo il fatto che questo battistero declini il modello di San Giovanni alle fonti di Milano. Quindi un sistema di nicchie alternatamente semicircolari sulle diagonali e quadrangolari sulle ortogonali, un impianto ottagonale e le nicchie sono comprese nello spessore del muro e nell'apsidiola maggiore c'è un mosaico paleocristiano che non ha assolutamente niente da invidiare a quelli di Ravenna eppure appunto mi domando quanti conoscano questo battistero no? Persistendo nella loro convinzione per cui la Liguria è così brutta e nelle intenzioni originarie molto probabilmente il cantiere della cattedrale doveva essere uno dei più importanti cantieri degli antelami molto probabilmente il più importante del ponente Ligure. Anche in questo caso l'annessione definitiva della città di Albenga da parte di Genova nel 1251 fu decisiva e fu molto importante anche il ruolo di Lanfranco di Negro, vescovo di Albenga che ebbe un episcopato molto lungo dal 1255 all'89 e fu il primo vescovo Ligure appartenente agli ordini mendicanti, era un francescano. Procedendo velocemente verso Levante dobbiamo parlare di Savona. Savona come noto è una città che più di altre ha avuto degli sfregi importanti e ha avuto delle perdite significative del suo patrimonio medievale anche perché conquistata definitivamente nel 1528 dai genovesi immediatamente si trovò con il suo porto interrato dopodiché a partire dal 1542 i genovesi procedettero alla sistematica demolizione di una parte importante del tessuto medievale della città, quello che si trovava in altura, quello sull'attuale colle del Priamar dove c'è questa bellissima fortezza cinquecentesca all'interno della quale sono stati effettuati scavi che tra le altre cose hanno portato all'individuazione di testimonianze importanti della cattedrale. Qui la situazione è un po' strana perché per tutto l'alto medioevo il vescovo Oscilla Travado che ereditava le prerogative di Vada Sabazia, la più importante città romana della zona e Savona. Sappiamo poi che a Cavallo del Mille ha luogo questo primo cantiere nel 1167 gli uomini di Savona stipulano una convenzione con gli uomini di Recco per una fornitura di tegole di Arnesia, però questo credo voglia dire che si stava riparando il tetto della vecchia cattedrale, non che si stava procedendo con un nuovo cantiere, quella nuova che abbastanza ben documentata prima della demolizione nel cinquecento dovrebbe risalire alla seconda metà del duecento-trecento. Per fortuna però nei dintorni di Savona si conservano ancora alcuni monumenti medievali che ci danno la misura della ricchezza di un territorio che anche se per scampo lì anche se per piccoli frammenti ci permette ancora di capire l'importanza cruciale di questa città nell'epoca del medioevo. Procediamo ancora verso est, Genova chiaramente qui, come sai potremmo stare qui per settantadue ore, accennerò soltanto all'importanza enorme della cattedrale di San Lorenzo, uno dei più importanti cantieri del Mediterraneo. Questo cantiere che si sviluppa a partire dal millecento circa con l'episcopato del vescovo Airaldo, viene consacrato da Papa Gelasio II, peraltro nello stesso viaggio che vede la consacrazione da parte dello stesso pontefice della cattedrale di Pisa e qui bisogna sfatare un preconcetto, vale a dire queste consacrazioni nel medioevo non necessariamente volevano dire che l'edificio era terminato, il Papa passava di lì per tutt'altri motivi e se l'area presbiteriale era terminata si approfittava per fargli amministrare questa consacrazione. Poi sul finire del dodicesimo secolo si concepisce un progetto che vede l'attività di una bottega molto agguerrita di Antelami, il progetto di una prima facciata che però viene accantonato molto presto a favore dell'attività di una maestranza di provenienza anglo-plantageneta, d'altra parte la proiezione mediterranea della città di Genova favoriva spesso e volentieri questi apporti che potevano venire da molto lontano che porta alla costruzione della splendida facciata e degli splendidi portali che conosciamo. Poi chi avrà la pazienza di leggere il libro ecco magari dia un'occhiata anche all'introduzione perché gli do una dritta riguardo alla visita di Genova perché chiaramente si possono sviluppare veramente molti itinerari nella città perché i monumenti medievali conservati nel centro storico sono veramente molti. Dopodiché però le distanze che intercorrono tra questi monumenti sono talmente brevi che ciascuno potrà costruirsi il percorso che più gli va a Genio insomma a seconda del tempo a disposizione ma anche a seconda di ciò che gli interessa di più. Poi procediamo verso Levante. Chiaramente sto andando un po' a sport, non ti sto facendo una rassegna sistematica di tutte le schede, quella poi se vorranno la vedranno i lettori, se acquisteranno il libro e se lo leggeranno con calma. Ecco andando verso Levante ci sono diversi fenomeni importanti. Innanzitutto parlerei delle cinque terre che sembra incredibile perché tutti vanno alle cinque terre per tutt'altre ragioni, per le escursioni, giustamente intendiamoci per la via dell'amore, per la meraviglia della posizione naturale nella quale si trovano questi cinque borghi. Ma c'è una quantità notevole di chiese di fine 200, primi decenni del 300 che veramente lascia stupiti, tanto più che in maniera sistematica viene declinata la tipologia della chiesa a sala a gradoni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la navata centrale è un pochino più alta rispetto alle navate laterali, ma non al punto che è possibile aprire delle finestre. E sono veramente numerose. Santa Margherita di Vernazza, San Pietro di Corniglia, San Giovanni Battista Monte Rosso al Mare, San Lorenzo di Manarola, anche se non è propriamente nelle cinque terre, all'elenco possiamo aggiungere Sant'Andrea di Levanto, edificio molto interessante che pur non essendo una chiesa degli ordini mendicanti, presenta all'interno la suddivisione caratteristica degli ordini mendicanti, cioè la metà della chiesa verso l'abside, quella destinata ai frati, che ha una configurazione architettonica più raffinata, con pilastri compositi e con una copertura a volte, e la metà verso la facciata, quella destinata ai laici, le due metà, che poi a volte non erano esattamente due metà, ma erano due parti che bene o male in qualche modo si compensavano, erano suddivise da un tramezzo o comunque da una suddivisione trasversale, e dicevo, la parte della chiesa, l'ecclesia exterior, esterna, è connotata da un'architettura più semplice, colonne e una copertura a tetto, ma ripeto, era una chiesa parrocchiale. Ma c'erano di mezzo i fieschi, questa potentissima famiglia genovese, che non lontano da Levanto si distinse per la promozione di quel cantiere importantissimo che fu per l'appunto San Salvatore dei Fieschi, voluta, espressamente da parte di Papa Innocenzo IV, a partire da Papa, scusami, a partire dal 1244 e Innocenzo IV al secolo era un fieschi, che è probabilmente il modello che viene seguito in questi cantieri in ritardo medievali del Levante, no? Tre navate coperte a tetto, tre apsidi quadrangolari precedute da tre campate coperte da volte a crociera e una struttura trasversale che separa queste due parti. E per quanto riguarda l'orizzonte culturale dei fieschi, va detto che a brevissima distanza da Cocorno, dove sorge la chiesa di San Salvatore, loro fondano l'abbazia di Borzone, che ha tutt'altre forme, è una cosa incredibile e siamo negli stessi anni. Quindi è veramente impressionante come una stessa famiglia, nello stesso luogo, negli stessi anni, possa promuovere due cantieri dalle forme così diverse. Borzone ha questa muratura veramente incredibile, non solo per la Liguria, ma per tutto il nord Italia, con una partitura di arcatelle in mattoni su superficie di fondo in pietra. E si trovano confronti in Spagna, nell'architettura mozzarabica volendo, cioè in Italia non si trova niente che possa dare un suggerimento. Dopodiché velocemente concluderei accennando a Porto Venere, luogo molto importante per la sua posizione naturale, che chiaramente faceva gola alla Repubblica di Genova, che prontamente nel XII secolo, non appena ne ebbe l'occasione, lo fortificò. E chiaramente questa vicenda istituzionale finisce per ripercuotersi anche sui due grandi cantieri di edilizia religiosa che si trovano a Porto Venere. Uno è San Pietro, che molti conosceranno per la sua bellissima posizione naturale, proprio a strapiombo sulla scogliera, e l'altro è San Lorenzo, che è in una posizione un pochettino più appartata rispetto al mare, ma che a sua volta è un edificio molto interessante. Dobbiamo accennare all'isola del Tino, a largo di Porto Venere, che purtroppo è visitabile soltanto il 13 settembre da parte della cittadinanza, che è il giorno della solennità di San Venerio, che è il santo al quale era intitolato questo monastero benedettino, 13 settembre e nella domenica successiva, perché appartiene alla marina militare. Ma se il 13 settembre non avete impegni, andate a vedere l'isola del Tino, perché è veramente un posto incredibile, dove per l'appunto si conservano i resti di questo interessantissimo monastero di San Venerio, fondato intorno al 680, alla morte di Venerio, che si era dedicato a lungo all'apostolato e che poi ebbe una vicenda prestigiosa e importante anche nell'undicesimo e nel dodicesimo secolo, con tanto di prerogative in Corsica, ma anche qui si ritorna al discorso di prima, vista la posizione geografica, questo non stupisce. Accenno velocemente al castello duecentesco di Lerici per fare riferimento al fatto che gli antielami non si cimentavano con successo soltanto nei cantieri di edilizia religiosa, ma anche in quelli di architettura castellana, nell'ambito delle fortificazioni, e questo lo si vede anche nel Castel d'Appio di Ventimiglia, questo bellissimo castello con una torre pentagonale protesa verso il paese, circondata dalle cortine murarie che delimitano gli ambienti del castello e all'interno di questi ambienti noi possiamo vedere una bellissima cappella intitolata a Santa Anastasia e sull'architrave del portale di questa cappella troviamo un'iscrizione nella quale troviamo il riferimento alle circostanze nelle quali Lerici era stata conquistata dalla Superba nel 1256. Concludo accennando alla concattedrale di Sarzana, edificio importante nell'ambito dell'architettura del Trecento, a mio parere è interessante perché è uno di quegli edifici che non hanno avuto un restauro tra virgolette filologico di fine ottocento, primi decenni del novecento, che ha fatto piazza pulita di tutte le fasi successive. Abbiamo testimonianze importantissime dell'epoca rinascimentale e dell'epoca barocca, ma il manufatto in assoluto più prezioso, più interessante che si conserva nella cattedrale di Sarzana, per l'esattezza nell'abside minore sinistra, è la famosa croce dipinta di Mastro Guglielmo del 1138, che è la croce più antica, firmata e datata. Questo Cristo trionfante, perché non ha l'espressione sofferente dovuta al supplizio della croce, non ha quella torsione molto forzata del volto dovuto alla sofferenza, associata a tutta una serie di raffigurazioni, un ciclo iconografico di grande interesse. Se andate a visitare la cattedrale di Sarzana, troverete anche un apparato multimediale molto interessante che illustra questo manufatto. Resta da capire come questa croce sia arrivata lì, perché non è documentata lì proprio fin dalle sue origini, però di questo eventualmente si occuperanno gli esperti di arte figurativa. Ecco, mi scuserete se magari questa cavalcata è stata un po' troppo veloce, però spero che possa essere un invito alla lettura del libro. Beh, Simone, che dire, non si può prescindere da questa guida se si va a visitare la Liguria, perché soprattutto sfata tutti quei luoghi comuni che accompagnano la Liguria e la fanno passare o per luogo di villeggiatura o per luogo devastato dall'edilizia degli anni sessuali. Poi uno può andare in villeggiatura, andare a visitarsi chiese, castelli e monumenti è una cosa non esclude l'altra. Una guida come la tua dal costo più che accessibile e dedicando magari i pomeriggi dopo una bella mattinata in spiaggia o sugli scogli uno scopre una Liguria che non conosce e che invece merita assolutamente di essere scoperta. Quindi io a questo punto ricordo assolutamente il titolo che è Liguria medievale. Sottotitolo è 50 luoghi da scoprire e visitare, quindi anche... 55, 55, 55. Ho sbagliato io nel... Vai tranquillo, niente di grado. Infatti mi domandavo perché è una collana di regioni e sono tutti 55 luoghi, appena pubblicato dall'edizione Capricorno e scritto e curato da Simone Caldano che abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro ospite in questa videopresentazione. Vi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e spero di rivedervi tutti alla prossima videopresentazione. Grazie ancora Simone. Grazie a te Maurizio, grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te Maurizio, grazie a tutti.